Stefano Mancinelli per Orlandina Basket TV, Stefano con Poz, il Baso e Teo oltre al lavoro vi lega una grandissima amicizia? Sì, sono molto amico di Poz e di Baso, Teo l'ho avuto molti anni in nazionale, però con Baso e Poz ho un rapporto un po' diverso, perché avevo giocato un sacco di tempo a Bologna prima che andassi in nazionale, mi hanno aiutato tanto a crescere nel basket come giocatore e come tutto, gli devo tanto, quindi poi gli voglio anche un gran bene perché sono delle persone fantastiche, oltre ad essere i migliori giocatori degli ultimi 20-30 anni italiani. Ti hanno tenuto per così dire a battesimo a Bologna un po' di anni fa? Sì, sì mi hanno tenuto sotto loro alla protettrice, sono stati veramente super per me per migliorarmi come giocatore e come persona. Stasera come la vedi? Spero bene per Torino, sicuramente è una parte di scherza, è una partita secondo me molto bella, sarà una partita molto bella, sono degli infortuni da parte nostra, da parte dell'Orlandina, quindi sarà una partita secondo me alla pari, se la giocheranno alla pari, spero vada bene per Torino, però poi sul campo si vedrà. Un saluto da Capo d'Orlando che quest'estate insomma aveva allacciato qualche contatto con te. Sì ma Capo d'Orlando è una grande società, sta facendo cose grandi, ringrazio per l'offerta che mi hanno fatto, poi ho preferito Torino, però secondo me se continuano così possono tornare anche in Serie A 1 perché hanno veramente un grande progetto come Torino, sono in poche adesso in Italia anche in Serie A ad avere dei progetti. Grazie da Capo d'Orlando.